Un giro d'affari di più di 2.000 clienti, 10 ordinanze di custodia cautelare, 7 eseguite in queste ore, 2 arresti in fragranza di reato, 450 grammi di cocaina e 231.000 euro provento di spaccio sequestrati. Vasta operazione antidroga della squadra mobile della questura di Lecco che ha sgominato una banda di marocchini derita alla vendita all'ingrosso e al dettaglio della sostanza stupefacente. Lo spaccio avveniva in centro Lecco e lungo la superstrada 36, ma i pusher rifornivano una vasta area tra le province di Bergamo, Milano e Monza e Brianza. I marocchini, 5 uomini e 2 donne di età compresa tra i 30 e i 40 anni, erano per lo più residenti nella Bergamasca. La droga arrivava dall'Albania passando dalla provincia di Brescia. A fa scattare le indagini nel 2016 controlli relativi alle attività di spaccio all'interno del bar Galleria di via Carlo Cattagno, il cui titolare è stato arrestato lo scorso agosto. L'uomo si trova ancora in carcere. Gli uomini della squadra mobile, in particolare dell'antidroga, non si sono fermati allo spacciatore di zona del bar Galleria, ma hanno cercato di ricostruire l'attività, la filiera dello spaccio, che interessa e colpisce particolarmente questa città, Lecco. Nell'attività che è proseguita è stato possibile individuare i reali fornitori di questa sostanza stupefacente della cocaina e ha permesso quindi di ricostruire questa rete che porta appunto a una dozzina di marocchini, che a loro volta, oltre ad essere spacciatori, sono anche fornitori di una vasta area che interessa Lecco, Bergamo, Monza, Brianza e anche Milano. Gli operatori della squadra mobile di Lecco sono riusciti a definire questa rete, questo sodalizio criminoso, e grazie alle richieste di custodia quotidiana della dottoressa Santoro, sostituto procuratore di Bergamo, è stato possibile ottenere queste custodie ed eseguirle ieri nella mattinata molto presto, riuscendo a recuperare quasi tutti questi soggetti che appartengono a questo sodalizio criminoso. Ne mancano tre, peraltro tre ai vertici. Sì, non tutti dei vertici, ma sono sicuramente delle persone importanti dell'organizzazione che attualmente è smembrata e stiamo ancora proseguendo le indagini per poter individuare gli ultimi che ci mancano. Un giro d'affari, duemila clienti, numeri altissimi. Sì, è uno spaccio al dettaglio soprattutto, ma è molto molto elevato, con una frequenza giornaliera e per moltissimi clienti appunto che sono presenti in tutta questa area. È stato possibile quindi dare un taglio abbastanza importante a questo fenomeno dello spaccio che sicuramente rimane molto presente, ma abbiamo dato una piccola risposta.